Sindaco Mosaner, dimmi Riva sulla riqualificazione e valorizzazione del compendio Miralago, cosa significa? Significa processo di partecipazione su un progetto meraviglioso che interessa una delle parti, una porzione del territorio, una delle più prestigiose penso del Trentino, proprio sulla sponda del lago. E' stato bandito questo concorso da una società, la Lido di Riva del Garda, una società partecipata dal Comune, per un concorso di idee al quale è partecipato a 32-33 studi di progettisti che hanno lanciato e dato le loro idee. Ecco, una mostra per tre settimane in cui i cittadini avranno l'opportunità, grazie a un modulo partecipativo come web, di dire la loro. Lei li auspica che ci sia partecipazione? Beh, non solo. Allora, abbiamo creato questo passaggio importante con la sintonia totale del Consorzio dei Comuni, questo ne va dato atto e un ringraziamento specifico. È un percorso che noi stiamo facendo da tanto tempo e questa è una delle prime esperienze in senso assoluto del Trentino, se non la prima, nella quale i cittadini possono partecipare direttamente, dicendola loro, evidentemente qualificandosi, perché riteniamo che sia opportuno che il cittadino si qualifichi, ma dicendo liberamente quello che pensa e sulla mostra è magari anche una idea sua. Di tutti questi esiti poi noi ci impegniamo a portare la sintesi di questi sunti in Consiglio Comunale e li affideremo alla nostra società che poi dovrà ragionare anche lei sul progetto. Per dare suggerimenti e consigli a chi rivolgersi dunque? Ora, rivolgersi al dimmirivachiocciolacomune.rivadelgarda.tn.it, ma devo dire anche che presso la mostra saranno installate delle postazioni, quattro postazioni, lì, dove direttamente potranno registrarsi e direttamente dalla mostra dire la loro. Grazie a tutti.